Ciao ragazzi, mi è arrivato il nuovo microfono, quindi lo andiamo subito ad unboxare. Allora, intanto vi dico che ci sono due pacchi perché, allora, uno contiene... Allora, questo qua è praticamente il braccio che dopo lo microphone stand da tavolo, quindi per il supporto da tavolo per il microfono. Dopo lo apriamo successivamente. Adesso andiamo ad aprire il pezzo forte. C'è la colla. Lo riuscirò con la mano sola mentre registro ad aprire. Ok, apriamo il tutto. Eccolo qua. Attenzione. Aoooo. Quadcast, ok. Andiamolo ad aprire. Ok, vabbè, qua ci sono dei libretti. Ma... Guardiamo un po' come... Non voglio far casino. E incastro. Tac. Oh, eccolo qua, ragazzi. Bello, eh? E' bello, eh? E' bello. Caccavetti, miei caccavetti. Allora. Oh, oh. Vieni fuori. Ecco qua, ragazzi. Ebbè, adesso non ci resta altro che montarlo, eh? Allora, ecco, ragazzi, che ho fissato, come vedete lì, il microfono. Adesso devo fare un po' di regolazioni. Devo un po' capire... Vedete qua c'è il braccio girevole. Posso alzare, posso modificare. Devo ancora capire se l'ho montato correttamente, a dire la verità. Comunque, dai. Intanto abbiamo iniziato a piazzarlo. Adesso lo vedete anche acceso. Bello, eh? Che poi è di carino che per disattivare l'audio basta toccarlo questo. Così attivi e così lo disattivi.